Indocini! Shit! Girati va! Ma scusa! Ma questa è una macchina che cazzo! Non puoi fare foto guardando dentro qua? Dio la verità va! Ci vuole un uomo quali di una volta! Girati! Te, ridi va! Non si può! Sai che una volta guardavi dentro? Adesso queste qua che cazzo fai? Grazie!